salve a tutti signori benvenuti in una puntata di questa serie su fifa 20 con i nostri accademici mi guardavo in giro perché stavo cercando il cellulare io sto registrando questa puntata di giovedì sera qualche ora prima dell'ia play magari spero posso darci qualche notizia di fifa perché notizie confortate sul fifa 21 perché tra l'altro ho appena saputo del rinvio di cyberpunk e sono triste ho bisogno di buone notizie però è elettronic arts vabbè scusate scusate comunque elettronic arts sul dia play intendo comunque lasciamo stare andiamo noi andiamo noi allora io 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 saluto saluto buon manuel b che allora allora sì sì ok intanto 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 lo saluto ringrazio per il commento buona 99 a me dice che avversari più facile lo schalke questo è vero le altre sono tutte abbastanza forti purtroppo come avete visto una puntata 100 credi visto che ci è capitato io per la per la cronaca fuori alla telecamera ho provato a vedere che scuola era capitata al celsi suona che c'è il cento che è arrivato secondo sul girone è capitata la roma ora per carità era abbordabilissima la roma però comunque torniamo a noi a me ti come dice ogni tanto mostro regione mia richiamabilità canore io non penso avere dell'abilità canore ma e metto dei suoni scusate che si è un po appannato ok e metto dei suoni vagamente musicali suoni brutti non ve lo consiglio non ha detto qualche è un bel video tutto cantato no ecco non ve lo consiglio perché comunque possiamo stare a trattore siccome anzi c'è un fra amici di facebook è giustamente banchi manuel banchi non bianchi e chiedo scusa per errore pronuncia il cognome scusate chiedo chiedo mi mente scusa ecco letto ma quella io ogni tanto lei ogni tanto me scappano comunque comunque andando noi non penso ci siano nome non ci sono altri commenti ok 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 allora andiamo noi andiamo noi andiamo noi andiamo noi andiamo noi allora quella puntata abbiamo a che fare due precampionato la prima con l'astra e una di coppa di coppa però coppa di di romania vediamo cosa riusciamo a fare intanto conferenza stampa questa partita con l'astra giurgiu direi andare a fare perché tutto non ok potete contarci l'applauso era un secondo miglior simbolino che ho fatto di simbolino è perché non leggo neanche quello che dice allora simbolino migliore di tutti per far salire il morale e diamantino poi ci sono il simbolino con gli applausi qualunque sia la risposta che state dando e non lasciate perdere lo scritto e dietro quello mio simbolino può dietro c'è dopo quei due se non c'è nel diamante negli applausi allora meglio è questo qua per far salire poi per esempio vediamo i simboli di posizione qua ci sono gli applausi e quindi scegliamo gli applausi ok ho letto quello che mi dico ma che sta richiedendo se ho letto quello a cui che la domanda la risposta che ho dato assolutamente no perché non ha non è importante è abbastanza evidente che non sia importante comunque andiamo noi abbiamo finalmente recuperato primo posto in classifica adesso dobbiamo mantenerlo contro l'astra giù giù e dovremo farlo con un massiccio intenso torno proprio massiccio gli stiamo la squadra è il solito torno verano se facciamo allora radu si fa un turno in il poso no che raducano 9 ripano scusate scusate dove ripa ripano ecco che fate chi fa tammo ci ammuccia in italiano dal diciamo faccio tra l'altro il siciliano italiano è cominciarsi in italia nascondersi ecco ogni tanto mi esce così le cose di siciliano non me ne accorgo nemmeno mi rendo conto solo solo dopo in fase di montaggio che chi chi non chi non è siciliano fono ecco non potrebbe non capire diciamo quello che dico quindi allora ora io direi maurissio possono in montes e cristea possa nicolaie poi 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 centrocampo con olb cecchini e bersergaard attacco con ferreira o simen perché adesso uso simen adesso come pelle e abbe ora andiamo noi andiamo invece al giocatore a portarmi in panca in panca mi porto per centrocampo mi porto costi mi porto so so ren dove so renze so renze so renze so renze a so renze e poi acquino difesa nicolaie va bene per l'attacco sulla destra e allora è allora io 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 non so io non so c'è elevazione 88 questo c'è questo io non so quanto quanto valga la pena farlo giocare da esterno questo qua però è un esterno che ha più caratteristiche di punta che d'esterno proprio secondo me per esempio ho già scatto facciamo una cosa provo a portarlo oggi provo a portare lui dai polenta e floriniello comanda come anche prossima stagione mi sa che andrà venduto è perché mi sa prossima stagione andrà venduto perché col fatto che arriva gabriel jesus che per me non è punta centrale giocato esterno e giocare esterno la sinistra comando diventerebbe la quarta punta quindi vende quindi scusate la tosse a dimenticavo una cosa dimenticato il terzino sinistro angelino torno del bussigno e di là ok direi a posto così a posto così e ne ho già ci sta partita dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi eccoci scusate scusate eccoci pronti allora altra partita di campionato altra partita da vincere seppur con massiccio turn over altra partita assolutamente da vincere perché perché sì perché la steawa non è per cioè le vincerà le vincerà tutte è abbastanza evidente che la steawa le vincerà tutte quindi per restare primi dobbiamo vincere tutte pure noi meno male ok va bene va bene vediamo quello che c'è a fare la stagione ai ragazzi dai ragazzi dai raga questi no no puoi riceverlo interessate tiii niii ah token meno male bravo ripanu 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 si per ripanu io trovo di può bloccarla una palla giuro giuro puoi puoi farlo puoi bloccarlo il pallone bene ora ripartiamo Olm Olm di là di là ferreira ferreira esus esus ferreira va discarico il tiro Olm e dai 1 a 0 e Ale e Ale la sblocca Olm comunque è vero questa stagione ridendo e scherzando ogni volta che gioca la butta dentro in un modo o nell'altro eh oh bene così bene così signori e allora ora ora che l'abbiamo sbloccato evitiamo probabilmente uno di loro ha annunciato il ritiro mi dispiace dicevo evitiamo di buttarla via per favore dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi fermano ok vai abe e porca mi non c'è lo spazio però se lo trovo lo spazio però se lo trovo lo spazio e provo anche agli vabbè 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 lasciate stare vabbè comunque amma mia abe mamma mia abe che ha combinato mamma mia abe che cosa ha tirato fuori mamma mia abe mamma mia abe c'è guardate dove è andata a metterla guardate dove è andata a metterla grande abe benissimo così ci voleva questo gol ci voleva questa meravigliosa giocata di abe che mi ricordo il nome però vabbè abe ora però io direi di non fargliela riaprire così io direi di non fargliela riaprire però niente invece invece dobbiamo fargliela riaprire per forza va bene va bene va bene niente come non detto come non detto signori come non detto come non detto non è servito assolutamente a nulla vabbè comunque vediamo che ce l'ho fare dai ragazzi dai ragazzi attenzione no ok ma c no 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 io avevo proprio appositamente lasciato mollato il tasto x proprio per evitare questo vabbè 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 la pareripano la pareripano la pareripano la pareripano la pareripano la pareripano ripano ripano oh ma comunque troppe emozioni solo a 20 ottesimo in primo tempo io non non ci arrivo alla fine però eh no no bravissimo Ok Tira sulla fascia Ripartiamo E dai No Meno male Ragazzi Oh qualcuno ci può andare Per favore No 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 E niente Meno male Meno male ripano Meno male ripano Meno male ripano Meno male Meno male Ma questa palla per favore O che forza Va bene Va bene Fine primo tempo Fine primo tempo 2 a 1 Buono Non buonissimo risultato Last e Awa Ovviamente vince C'era Non c'erano dubbi Non c'erano dubbi Fatto a carese Ciò Stiamo in vantaggio 2 a 0 Proprio Signori Anche Anche oggi Se tutto va bene Rimaniamo uguali Adesso Però Andiamoci a fare Seriamente E andiamo a chiudere la partita Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Ferreira Ferreira Discarico Baffetto Il baffetto La mette il baffetto La mette il baffetto 3 a 1 E a lei E a lei Baffetto A lei E a lei Baffetto A lei 3 a 1 Bravo Olivier Olivier Viene Ma non era Non era danese Perché Lasciamo stare Comunque 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 Adesso Romagnoli a Dortmund Allora Quanto volte me lo dovranno dire Che Romagnoli è passato a Dortmund Però Eh È fatto apposta Perché mi Per distrarmi Per questo E il portiere si salva Grazie al baffetto Non male Non male Non male Comunque Ripano un altro miracolo Ho fatto Vai Ok Di là Perfetto Abe Abe Con lo scarico Per Olm È la doppietta di Olm È la doppietta di Olm È la doppietta di Olm 4 a 1 Anzi forse non è Olm Ragazzi forse non è Olm Questa è Cristea Perché c'è Cristea in attacco? Infatti mi sembrava un po' Un po' No è Raducanu È Raducanu Era Raducanu C'è gloria anche per lui Che ci faceva lì Raducanu? E terzino sinistra Vabbè Lasciamo stare Comunque Portante 4 a 1 Che Diciamo che Mette in una Condizione Più tranquilla La nostra partita Eh? Vediamo cosa fa Che non ti riusciamo a chiudare Come si deve Dai ragazzi Dai ragazzi Ragazzi E va bene Va bene Va bene Cambi 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 Allora A questo punto La situazione è la seguente Io direi Galeano Posto di Ferreira E poi direi Sorensen Al posto di Westergaard E poi direi Polenta Al posto di Ozyman Po' di turnover E va bene Così Qualcuno ci può andare? Raducanu? Lo vedi Quello Deve essere tuo Raducanu E affiamo sempre Sto viziaccio Di regalare calci d'angolo Eh? Sempre sto viziaccio Va bene Dai Olè E là E che sei? Ah No 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 4 a 2 certo no una partita tranquilla dal punto di vista difensivo o no c'è sempre due gol meno male che facciamo a pioggia però non può essere sempre io non mi aspetto di poter fare quattro gol con Barcellona ecco in ogni caso se con l'Astra Cruz ne prendiamo due con Barcellona quanto ne dobbiamo prendere comunque lo riusciamo a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi Holm no tutti i nostri sono in fase i nostri sono in fase REM che non è il gruppo musicale di Losing My Religion la fase è quella del sonno profondo ecco fine 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 finisce la partita 4-2 portiamo a casa anche questa vittoria che non ci dà nessun vantaggio sulla seconda in classifica la Steawa perché ha vinto di nuovo anche la Steawa però tant'è 3-0 al Vitorul insomma non c'è non c'è da stupirsi in merito ecco sarà sarà sempre così sarà sempre così ricordiamocelo sarà sempre così ora andiamo Pavon prima viene la squadra il diamantino è il timboletto che è più efficace di tutti in questo cosa ok guai applausi non potevamo perdere ancora non so quando è che abbiamo perso però vabbè non potevamo perdere ancora comunque adesso adesso partita col gas metano siamo con il gas metano e la prossima che sarà con le riserve la giocheremo col Politec col Poliasi la Coppa Nazionale che volendo di tutte quante è quella che ci interessa meno però onestamente anche lì arrivare fino in fondo tanto schifo non mi fa ora io semmai devo fare una sostituzione ecco sai di titolare con gli altri un po' beili comunque è arrivato a 90 dove roll è una bestia allora Olm è stanco morto Costin al posto suo per gli altri tutto va bene così tanto comunque dobbiamo un momento di riserve e va bene sì assolutamente va bene sì sì salviamo queste modifiche perché tanto comunque quello è quello sono insomma è il passaggio diciamo Nisaid fra i titolari ecco comunque andiamo la partita con Gasmetan non abbiamo molt'altro da fare né tempo da perdere eccoci con Gasmetan la squadra titolare è quella è quella corretta è quella pronta anche se ora mi sto ricordando una cosa è spaiato a fare una roba ma vabbè correggerò dopo comunque dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi eccoci pronti altro partire campionato contro il Gasmetan cioè voi immaginate Gasmetan questa è la squadra voi immaginate il campionato in italiano ci fosse la squadra dell'Eni ecco più o meno questa la Gasmetan ok il Gasmetan dà una man speriamo che veramente dà una man perché altrimenti sono gazamar comunque signori vediamo quello che c'è a fare io direi vediamo di portarla a casa vorrei gradirei portare a casa questa partita vediamo quello che c'è a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi e Benedetti e niente e niente va bene comunque insomma come piglio dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi ole noi 91 gol fatti miglior attacco del torneo certo il fatto l'abbiano evidenziato mi fa pensare che non segneremo manco per sbaglio però uno ci prova ci proviamo ma niente interisce bravito angelinio 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 uno brutto di chigno niente 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 bene 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 veneretti niente gli stiamo gli stiamo prendendo a pallonate ma il loro portiere para qualsiasi cosa di là di testa e niente e tu e tu e tua bravissimo pavon fai pavon fai pavon fai pavon cercano di abbattere la fucilata ma non ci riescono e alle ole e alle signori alle 1 a 0 capitano futuro boris moldovan ci pensa lui a sbloccarla ci pensa lui 1 a 0 palla al centro dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi ripartiamo di là ok di là benissimo di là benissimo musa di là attenzione mi sa che è fuori gioco perché inquadrano lui che cosa che succede perché hanno inquadrato quello che quello dei loro che faceva la sfilata che 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 cosa è su che c'è milano moda che che cosa vabbè facciamo stare ok domani 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 benissimo tirato la fascia benissimo cross in mezzo fa niente fa niente prozovic tirato la fascia boris boris niente all'allontanata povero benedetti aia ok uuuuuh ti fa inserimento e niente doppietta di capitano futuro boris moldovan capitan futuro boris moldovan e la sua doppietta continuiamo a segnare a mitraglia l'unico problema nostro è la difesa infatti sto pensando oggettivamente oggettivamente sto pensando prossima stagione investimenti e c'è come posso dire più probabile fattibile che gli investimenti si vadano fatti in difesa l'anno prossimo soprattutto per i centrali nel senso c'è un centrale da mettere accanto la però e la però e la però però ok benissimo dicevo un centrale da mettere accanto a Nicolai magari un centrale forte ti spera che il prossimo anno noi potremmo avere una capacità di spesa maggiore niente il centrale forte potremmo mettercelo accanto a Nicolai e poi vedremo comunque in mezzo è niente comunque i suggerimenti soprattutto in questo senso i difensori centrali forti sono sempre ben accetti adesso vediamo come riusciamo a fare eh però ok no no fine primo tempo fine primo tempo e quindi vantaggio quindi vantaggio 1 a 0 c'è no 2 a 0 scusate 2 a 0 la Steawa che fa la Steawa vince 2 a 1 e sta vincendo 2 a 1 e porca miseria e che caspita non mollano mai eh non mollano mai non mollano mai non mollano mai quelli che Steawa non mollano mai e vabbè e allora non dobbiamo mollare neanche noi come dice una volta Peppe Grillo presentazione del Movimento 5 Stelle loro loro non molleranno e noi neppure allora andiamoci a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi che poi non era così era noi non molleremo loro neppure niente scusate ho sbagliato lasciamo stare lasciamo stare ai vai Boris vai Boris vai Boris vai Boris vai Boris se ne sei piaciuto di là per Saeed Musa Musa per il capocannoniero per il capocannoniero per il capocannoniero 3 a 0 Musa Saeed e a lei e a lei signori e a lei Musa Saeed 3 a 0 contropiede bello facile e facile Musa Saeed davanti al portiere non sbaglia non può sbagliare e quindi signori 3 a 0 io direi che al sessantesimo non so praticamente potrei fare il turnover solo che non so quanto mi conviene il turnover dove sei sincero eh perché cambia comunque vedremo attenzione Saeed Musa Musa niente che cavallo fa niente fa niente dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai brozzo però ho visto ho visto un Bailey ho visto un Bailey che finvolava di là in qualche maniera la palla gli è arrivata Bailey ma niente Bailey ne ha tirato il difensore primo palo mezzo eh non c'è niente 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 eh Angelino ok appoggia di là Benedetti prova da fuori in bocca al portiere che è tua bravissimo lancia benissimo eh mamma mia che stop che 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 salvataggio All'Holly e Benji ha fatto quello che salvataggio All'Holly e Benji davvero vabbè comunque 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 cambia 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 allora 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 io direi intanto Costin a posto di Moldovan così poi 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 chi posso mettere che non facciamo una cosa gli altri eventualmente dopo gli altri eventualmente Costin gli altri eventualmente dopo primo palo fatta e Beidi perché non lo so va bene lo stesso in mezzo di testa e vabbè dice non ancora ancora Beidi primo palo ci riproviamo ti giusto mischione e niente attenzione a punti la bella sta no bella palla però che era per Bogor forse non ho visto bene il nome però penso fosse lui io però io però io questo lo fermerei però io questo però lo fermerei bene che la stava non c'era casmetà non ha fatto nulla finora però sai com'è sai com'è vorrei evitare che 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 vorrei evitare manda che sta palla io mi sembra aver visto anche un fallo di mano dei nostri mezzo però va bene va bene niente niente succede niente succede niente succede ci siamo un po' spenti in attacco ma ci siamo un po' spenti proprio sto vedendo dico qualcuno meno male bravo radu bravo radu però signori io direi che ci svegliamo un attimo che ne dite io proporrei di sì poi fate voi ecco io vorrei di darci un attimo una svegliata eh dico qualcuno può andarci non meno male meno male qui qui è andato storico ah scusi 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 meno male bravo radu bravo radu però io sai com'è eh andiamo andando via ecco c'è vabbè via no ok vabbè 3 a 0 80 dovrebbe essere chiuso però ragazzi oh ma sveglia ma buon c'è dico eh dico non vorrei ma pinte i riflessi a 0 non reagiscono ai comandi e alla fine dovevamo prenderlo dovevamo per forza prendere il gol dovevamo per forza prendere il gol vabbè eh ok vabbè rompe le scatole che dobbiamo prendere gol sempre e comunque per forza però però alla fine ok alla fine chi se ne frega 3 a 1 vinciamo anche questa avrà vinto anche la Steawa di certo quindi non sto neanche a sperarci che di là sia successo qualcosa di diverso fa 4 a 1 cioè c'è la Steawa proprio noi alla Steawa facciamo un campionato a parte è evidente questo è evidente che noi alla Steawa facciamo letteralmente un campionato a parte e ora e ora allora tutto merito dei giocatori assolutamente tutto merito dei giocatori è in merito dei ragazzi quindi lo diciamo due volte però stavolta c'è la gioiellina quindi va bene ora io farei un allenamento lo farei così via e a lei avanti allora io direi adesso andiamo la terza ultima partita di questa puntata contro il Poliasi quarti di finale di Coppa di Romania che la dirigenza si aspetta che noi la vinciamo ma io non 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 quanto possa essere probabile la cosa anche perché i titolari mi servono quindi 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 allora Radu Radu al posto Radu beh ripano ecco ripano ripetiamo la solita allora Maurizio al posto di Montes al posto di Nicolae ci va Cristea Bogle lascia spazio a Mirindelli poi me lo porto in punk ok gli altri due saranno Aquino è a posto no che sto facendo cosa sto facendo dove sei cecchini cecchini che ho sbagliato va bene ok poi ok attacco Ferrera Osimen Abe con attacco schierato adesso Charea adesso mi porto Charea non se la prende a male galeano mi porto crea polenta non lo so pavon si lo lascio accadere metto coman io direi così io direi così direi così ah no qua mi so dimenticato mi so dimenticato mi sono scornato ci metto Zorenzen allora no vabbè polenta no io perché perché non devo avere fiucio in polenta I believe in polenta ok mi porto polenta in punk avanti mi porto polenta in punk siamo tutti siamo a posto siamo carichi siamo carichi ci siamo signori ci siamo e allora dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi eccoci signori quarti finale della coppa di Romania i nostri accademici accademici ceni contro il poliasi con una squadra largamente rimaneggiata ma comunque decisa a portare a casa la vittoria il passaggio del turno vediamo quello riusciamo a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi no però così non volevo dalla lima vabbè che cosa no 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 meno male il pano di là dai no pochi puntati su questo giocatore ma deve rivelarsi davvero decisivo sta mettendo sta partendo a duemila il poliasi però oh la e la poliasi niente è partito il momentum fase momentum fase finale il poliasi va a duemila all'ora taki flu vabbè il poliasi parte a duemila allora eeeh realizzano il gol ma proprio c'è accelerati proprio li sto vedendo accelerati a duemila eeeh non è bello comunque andiamo che riusciamo a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi non c'è nessuno non c'è nessuno a cui servire oh si eh si oh si oh si niente niente bravo si tira sulla fascia benissimo eh però non c'è nessuno come sempre tira e dai 1 a 1 e l'abbiamo ripresa l'abbiamo pareggiata chi è che è la messa chi è che è la messa cost in cost in cost in è lui è lui che la pareggia bene così bene così signori bene così cost in cost in ed è 1 a 1 bene bene benissimo adesso adesso signori andiamo la vincere dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi che state facendo meno male ok ok dira ole avanti perera perera esus 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 e ale 2 a 1 oh così l'abbiamo ribaltata 1 e 2 1 e 2 così 1 e 2 1 e 2 abe abe la sblocca lui la sblocca abe la sblocca abe abe ci porta in vantaggio abe che lui che è solo fatto trovare il posto giusto al momento giusto grande azione di esus ferreira che mette un pallone perfetto per i piedi abe ed è 2 a 1 adesso però non buttiamo benissimo dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi allora cecchini bene oh sì di là attenzione abe e doppietta di abe e la doppietta di abe e la doppietta di abe tra 1 e già la partita comincia a mettersi su un binario più interessante e la partita comincia a mettersi su un binario migliore bene così signori bene così ora io continuerei di questo passo diciamo continuerei in questa maniera se riuscissimo a fare anche il quarto sarei contentissimo non dico farei turn over perché se non ho 4 gol di vantaggio nell'intervallo turn over non ne faccio perché conosco sto gioco lo conosco bene quindi ora vediamo quello che vogliamo fare dai ragazzi porca miseria dai ragazzi dai ragazzi benissimo no 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 benissimo raducano regolare così man c'è c'è al momento posso dire che è possibile però c'è un po' al momento un po' di appannamento così non lo so non mi comincia pieno non comincia pieno e che caspita 3 a 2 e qua franzisco cristea ma quanto cristea ci sono c'è contro quanti cristea ci sono in questo proprio a parte il nostro c'è c'è il portiere il portiere della della che era la squadra la partita precedente del del c'è la la caspita è cristea questo è cristea è il nostro cristea quanto cristea ci sono cioè comunque da me prima di risultare di risultare blasfemi senza volerlo la interrompo qua e ci vediamo a fare per questo secondo pen secondo terzo dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi osime salta salta ho messo lì per i colpi di testa la palla io premo il quadrando va bene oh di là avanti niente uh dalla ma porca che so che so esus 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 mamma no vabbè esus ferrera che azione ha fatto ragazzi ma che azione di esus ferrera che azio che serpentina di esus ferrera mamma mia esus mamma mia esus ferrera mamma mia esus ferrera signore guarda di là vedi il barco si ci infila e poi batte il portiere alla sua destra bene così bene così 4 a 2 come al solito zeeman ci fa un baffo ecco come possiamo dire di essere più zeemaniani zeeman guarda va a fine che prendiamo anche il terzo non è che che è finita qua che è tranquilla va a fine prendiamo pure il terzo ricordo però forse no forse no esus esus prova a giro e niente perché perché non ho capito che è successo va bene allora ferrera così man dai ah beh uh così man e a lei oh bene bravo si bravo si 5 a 2 direi che i cambi possiamo farli adesso su 5 a 2 voglio voglio beh sperare di poter fare dei cambi allora io direi sorensen al posto di estegar così per polenta posto di osyman e poi e poi ancora un anno dopo allora scusate io allora questo è solo destro io stavolta allora io voglio far giocare a gherea non so faccio una cosa faccio uscire avevo faccio riposare lui e metto e provo ferrera a sinistra vediamo come va ok turnover chiarea in campo e che caspio sbagliato tasso bene così vittorosimene ci mette anche il su di timbro forse completamente inutile ma non si sa mai meglio così meglio un gol in più piuttosto un gol in meno mentre sentite sirene ambulanze a caso e ora di cena anche anche per loro e quindi per non trovare traffico usano le sirene bene così comunque io direi di direi possiamo ok direi possiamo evitare di prendere gol che ne dite dai ragazzi fuori dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi allora costi bene di là costi ancora di là per polenta ancora costi attenzione costi vabbè costi c'ha un attimo le polveri bagnate davanti alla porta o meno oggi poi di là costi ci riprova ci riprova e stavolta gli riesce e stavolta gli riesce stavolta gli riesce 6 a 2 niente più zemaniani di zeman proprio più zemaniani di zeman facciamo e subiamo un sacco di gol sembra quasi palla a mano bravo costin bravo costin credo che oggi credo che sia doppietta per lui è possibile che sia doppietta per lui in questa partita possibile non lo so può essere forse la toccata no forse forse l'alto quello l'ha fatto in questa e vedo poi fasi in vantaggio dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi alla spazzata via ok via sulla fascia vai samuele in mezzo di testa che finisce che testa c'hai ferrera dove l'ha mandato sto pallone posso vedere dove l'ha mandato sto pallone dove ma che testa c'hai vabbè lasciamo stai chini bene qua azione che si fa interessante forenzen bella palla di forenzen attenzione polenta prova lui niente un difensore messo lì per caso che si trovava di lì per caso nega la gioia del gol in coppa tra l'altro col braccio questo era fallo di mano ma vabbè sarebbe stato rigore ma lasciamo perdere comunque fa niente fa niente mezzo pista alta parata di rusu così si chiama rusu no no scusi samedi vedi che vedi che stiamo andando a fare vabbè mamma mia ultimo giro poi ce la fa un attimo la riflessione che voi l'avete visto penso all'inizio partita che sembravano iper accelerati globetrotter adesso adesso il poliasis è completamente spank io non so perché è successa sta cosa non ha completamente senso è come se fosse entrata nel primo tempo fosse entrato il Real Madrid con la maglia del Politecnica Iasi e poi sono arrivati i cugini scemi non lo so comunque comunque l'importante anche questa abbiamo vita semifinale raggiunta della Coppa di Romania che poi vedremo quando ce la faranno giocare presumo abbastanza in là nel tempo Asteava vince anche qua ma figurati anzi io lo spero io spero di arrivare in finale con l'Asteava così nel frattempo qualcuno di sei partite di Coppa gli toglie un po' di energia per il campionato perché le stanno vincendo tutte porca miseria devo ringraziare i ragazzi solo devo ringraziare i ragazzi ringrazia ringrazia costi è stato proveniente con grande prestazione ultima presentazione è stato straordinario assolutamente è stato straordinario 6-2 allora questo è qua qua mani abbattiamo le mani battiamo le mani ok bene allora signori io siamo ritornati a 90 come valutazione allenatore finalmente finalmente succede una cosa sensata ovvero vinciamo e la valutazione vinciamo la partita e la valutazione allenatore si alza è strano per questa dirigenza è strana di solito succede il contrario comunque Cristè che dice sto attraversando buon momento di forma mi sento bene Poliasi hai giocato poc'anzi hai giocato prima beh diciamo che ci penserò poi magari casomai lo faccio entrare vediamo casomai lo faccio entrare nella ripresa vediamo comunque io direi noi possiamo fermarci qui per oggi darci un puntamento alla prossima puntata di questa serie su FIFA 20 con i nostri accademici puntata che sarà tostarella a parte Poliasi e cruci che dovremmo affrontare con riserve poi poi piangiamo poi piangiamo tanto poi piangiamo veramente tanto Barcello c'è e questo c'è capitano meno male ho detto mi gioco primo posto che magari poi sorteggio per gli ottavi può essere un po' più favorevole la faccia del favorevole comunque signori io direi che possiamo salutarci qui e darci puntamento alla prossima come ho detto prima mi sto ripetendo meglio che chiudo prima che prima che mi ripeto ancora quindi un saluto a tutti quanti voi e alla prossima